ciao a tutti e benvenuti in questo secondo appuntamento con il mix di disco quando dove inizialmente cercherò di pulire al massimo le tracce coinvolte nel mix ascoltiamo ad esempio il canale della voce come possiamo sentire c'è all'interno il ritorno la voce già effettata ma sentiamo il ritorno molto presente della base i sistemi che potremmo utilizzare per pulire la voce possono essere molteplici uno di questi è sicuramente quello dell'uso del gate prendiamo ad esempio il fan channel di studio 14 e accendendo il gate cerchiamo la soglia di intervento che copra la parte applicando un high pass filter possiamo appunto tagliare tutti i segnali al di sotto di 50 hertz che normalmente contengono anche il rumore di fondo del nastro e con un gate cercare di chiudere al massimo quello che rientra nel segnale delle cuffie ovviamente questo è il sistema classico che viene utilizzato in fase di mix quindi l'uso del gate è proprio indicato per questo tipo di applicazione dopodiché grazie ai nuovi plug in fat channel possiamo utilizzare un equalizzatore passivo ed un compressore vintage modello 160 particolarmente indicato sulla voce con lo swap posso spostare l'equalizzatore pre compressione o post compressione normalmente lo faccio prima per togliere un po di opacizzazione sentiamo il mix originale per ascoltare la voce com'era equalizzata quindi sicuramente è inserita all'interno del mix in maniera più decisa è già una soluzione ottimale ma tenderei a cercare qualcosa di molto più preciso e molto più chirurgico in questo caso proviamo a sostituire i plug in contenuti nel fat channel con quelli presenti della famiglia fabfilter iniziamo con il gate e anche graficamente chiamo un ginocchio più morbido visto che l'uso dei gate non è propriamente adatto quindi non vorrei comunque togliere o limitare gli attacchi e i rilasci su questa voce così effettata procedo con un lavoro più dettagliato tagliando nettamente le parti che non coinvolgono la voce per fare questo potrei usare lo strip silence ad esempio che è uno strumento particolarmente adatto a questo scopo che trovate all'interno di studio on 4 dove appunto grazie a una threshold posso far sì che la traccia venga tagliata e per mantenere al massimo le parti che vengono influenzate dalla threshold impostiamo una threshold manuale cercando di essere meno violenti possibile in questo modo tutte le parti non coinvolte vengono già tagliuzzate sarà poi mia premura proseguire nel lavoro di editing quindi la rimozione delle parti più fastidiose ancora presenti all'interno della voce questo lavoro è ovviamente un po' tedioso ma garantisce dei risultati ottimali rispetto all'utilizzo di un gate rimuoviamo manualmente le parti meno interessanti questo processo è possibile applicarlo ovviamente dovremo applicarlo anche a tutte le altre tracce per far sì che il rumore non soltanto dei rientri di cuffia nei casi anche dell'orchestra ma anche soprattutto il rumore del nastro scompaia quasi completamente dalle tracce quindi dalla somma che poi avremo in fase finale potremmo poi sempre recuperare le caratteristiche del nastro come la compressione ad esempio attraverso l'utilizzo dei mix effects nel caso specifico di tape della soft tube che si interfaccia con studio one e che trasforma la do in un multitraccia sul nastro ascoltiamo ora passo passo le parti di voce cercando di limitare al massimo gli interventi morbidiamo ci abbiamo una coda ovviamente anche di riverbero quindi cerchiamo di limitarla ma non toglierla perché la voce è stata effettata con un chorus e un piccolo room riverber ho cercato di morbidire al massimo il riverbero perché in questo punto abbiamo anche il coro che si sovrappone la t viene mantenuta cosa che veniva cosa che risultava più complicata utilizzando il gate quindi avremmo dovuto regolare il gate per ogni frase che è comunque programmabile in maniera semplice studio one ma un lavoro molto più tedioso di quello che sto facendo in questo momento in questo modo poi ricomprimendo anche la voce avremo modo di lavorarci in maniera migliore senza doverci trasportare dietro tutti i rumori di fondo che influenzerebbero comunque il compressore e le e proseguiamo fino alla fine dell'editing ascoltando sempre ogni singola sezione quindi facendo attenzione che nessuna parte vocale venga effettivamente cancellata ovviamente poi avendo a disposizione la voce solista singola potremmo addirittura correggere delle piccole imperfezioni con melodine non è questo il caso perché per fortuna è stato cantato tutto in maniera impeccabile c'è comunque un roll off di base che potremmo tagliare poi con l'equalizzatore per lasciar fuori soltanto la parte medio alta della voce una volta terminata la fase di editing quello che consiglio sempre di non distruggere la traccia originale quindi creare una copia di quello su cui si sta lavorando in questo caso potremmo addirittura utilizzare i layers messi a disposizione da studio one aggiungendone uno e copiandoli e copiando quindi la parte originale lasciandola invariata in un secondo layer in questo modo potremmo switchare tra il layer editato e il layer originale in un qualunque momento potremmo già iniziare a mixare la voce ma il nostro lavoro non è terminato ancora dovremo infatti togliere tutti i silenzi presenti nelle altre tracce facciamolo con calma perché questo richiede comunque molta attenzione ma il risultato finale al momento del mastering soprattutto sarà più che eccellente perché non avremo rumori di fondo in grado di infastidire il nostro lavoro spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata verrete a contatto con le mie tracce affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering continuate a seguirmi su facebook youtube e music of non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto ciao a presto